Maia Arteto 2018 Una settimana di confronto tra modelli di musicoterapia, danzaterapia, teatoterapia e arteterapia Sono qui in questa sala del Presidente di Lecce i migliori professionisti che operano in questo momento in Italia nel settore delle arteterapie Peraltro in questa occasione abbiamo anche compiuto insieme con il CEPAS un passo fondamentale per i nostri professionisti La certificazione ISO 17024 è esenza della norma tecnica di settore Di sicuro un ponte per l'avvenire, un'esperienza che da oggi comincia, continuerà di sicuro nel mese di dicembre Con il secondo step per tutti i nuovi amici che si mirano a noi In una chermesse importante, il congresso nazionale a cui fin da ora apriamo le porte per la diffusione della nostra professione Insieme con tanti supervisori clinici, supervisori tecnici ci stiamo sperimentando Cresciamo nell'interesse della formazione che intendiamo dare ai nostri corsisti L'aggiornamento e la preparazione in aula, a porte chiuse spesso È la chiave per potersi raccontare bene in maniera uniforme all'esterno A tante persone che poi rivolgono a noi la loro attenzione E si rivolgono a noi affidandoci la fiducia per il loro avvenimento A tante persone che poi rivolgono a noi la loro attenzione